Mi chiamo Giulio Pompilio, sono il vice direttore scientifico del Monzino e sono il responsabile dell'unità di ricerca di medicina rigenerativa. Medicina rigenerativa è un ampio settore di ricerca che investiga sui problemi legati alla degenerazione del sistema cardiovascolare, in parte anche legato all'invecchiamento. Noi abbiamo molti pazienti con la cosiddetta malattia coronarica, cioè pazienti che soffrono insufficienza sanguigna nel cuore, alcuni dei quali che non possono più essere trattati con le terapie convenzionali. La medicina rigenerativa si occupa di capire come attraverso per esempio l'applicazione di terapia cellulare si possano creare all'interno del cuore dei vasi sanguigni per via alternative senza ricorrere appunto alle tecniche convenzionali di bypass o di stent. Il Monzino è l'unico centro in Italia che ha ricevuto i permessi per utilizzare queste terapie sui pazienti. Questo non è poco. Il Scodologo è uno dei centri in Europa che ha sviluppato le metodologie di ricerca più avanzate per studiare anche dal punto di vista dei modelli di ricerca la degenerazione del cuore e del sistema vascolare. Chi arriva qui ha una possibilità in più perché oltre alle tecniche tradizionali quando abbiamo pazienti estremamente gravi per esempio che soffrono del male anginoso che non può più essere curato, noi possiamo offrire una possibilità in più e stiamo vedendo dei nostri dati che in molti di questi pazienti ci sono miglioramenti importanti. Monzino è il migliore perché per essere buoni medici e per fare della buona clinica bisogna fare della buona ricerca.